Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Matti ProGamer, oggi siamo con Ron Lover, posso fare la mia intro Matti? Sì, puoi farla tranquillamente. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del mio canale, oggi siamo con Matti ProGamer, buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Allora, vogliamo avvertirvi che Roblox non funziona. Cioè, non è che non funziona, funziona ma male. Sì. Nel senso che a noi non ci carica, tipo, prima a me non mi faccio entrare sui giochi, proviamo adesso i fanchi. Sì, adesso ragazzi, voi vedete il mio schermo che io sto accedendo su Roblox. Tra l'altro, vedete che Roblox, ah no, non si vede mai. No, ma pensa se adesso che facciamo il video funziona. Molto probabile. Molto probabile. Cioè ragazzi, io provo ad entrare su Dosmi, facciamo tutto con Senti. Starting Roblox e mi fa a Nero. Guarda, voi non lo vedete ragazzi ma mi ha fatto entrare. Serio? Sì. Su fanchi. Cioè vedete ragazzi a me ha fatto questo, è molto strano. Vabbè. Cioè ma a me anche se io vado ad entrare nelle altre modalità, cioè. Per esempio, però in realtà ogni amico che tra l'altro conoscono la vita reale non dico il suo nome per riservatezza. Di chi? Dimmi. Ma perché quando facciamo i video? Ti ha fatto entrare anche a te? Sì, però in un'altra modalità. Cioè ragazzi, quando è, perché quando facciamo i video funziona tutto? Ragazzi. Noi vi giuriamo, ok, che... Perfetto, la pagina non risponde. Cioè noi vi giuriamo... Ok, non risponde. Vi giuriamo che noi proprio non riuscivamo ad entrare. Cioè ragazzi, quindi... Oddio, adesso, adesso non mi fa inzare più. A caso. Complimenti. Io invece sono entrato su Baby Simulator. Mi esce un bambino piccolo. Vabbè comunque, a parte di scherzi. Cioè ragazzi, noi vi possiamo giurare su quello che volete. Che non funzionava prima. Sì, cioè, anche adesso anche a me non funziona. Cioè anche a me, naturalmente, è una situazione che sono a casa, tutto. Sì, ma... Non so io. Ma, ti vedo che prima non funzionava. Cioè ragazzi, io vado su DotMe. Ma vado a entrare da macchie. Cioè ragazzi, io vado su DotMe e non mi fa entrare. Ok, vedete? Fa starting Roblox. E mi fa sto schermata. Perché nelle altre modalità funziona tutto? Cioè, guardate ragazzi, io magari entro su Dunking. O magari, che ne so, su... Ok, ora a me non mi fa più entrare. Io vado su Brocaven, non lo so, magari. Ma te ti fa entrare adesso? Sì, ma nelle altre modalità. No, aspetta, aspetta. No, adesso anche a te non mi fa chiedere. Cioè ragazzi, vedete? Guardate qua. Aspetta, mi è uscito che Roblox deve fare un aggiornamento. Ragazzi, scusate se sentite un po' di cadere, ma che mio padre sta... Cioè ragazzi, io posso anche entrare qua. Cioè, guardate, mi fa questa cosa qua. Non mi fa spia forza. Cioè, guardate, vedete? Questa cosa qua. Se me la fa sottolineare. Dimmi. Adesso anche se non ti fa entrare. No, non mi fa... Non mi fa proprio entrare. Ma com'è? Cioè ragazzi, io... Poi... Andiamo a tirare su Panty? Poi, non so perché, ok? Però su Adotmi... Ma, guarda! Cioè, adesso non lo vedete, ma al posto di Robux c'è il punto di potenza. Eh, aspetta, aspettate. Eh, da me ne vedono chiari, no? Mi ha fatto entrare su Adotmi! Cosa? Mi ha fatto entrare su Adotmi. Proviamo su Panty, da me? Come è riusciti dopo? Ti ho detto? Dai! Cosa? Ti ha scammato? Dai, no! Ti ha scammato! Ti ha scammato! I server Roblox datastore sono attualmente in Ativer. Raga, qualcuno mi sa dire come si mette in inglese il gioco? Ma, su Panty, mi fa la schermata iniziale che Roblox mi sta facendo entrare? Quando mi fa entrare? È caso! Ma non è normale, però, eh. Cioè, diteci anche voi nei commenti se avete problemi. Sì, ragazzi, cioè, vedete, allora... Guarda, non clicca manco bene! Sì, ma appunto! Cioè, guardate qua! Poi ci mette 30 anni a mettere le cose. Allora, non sappiamo se Roblox... Guarda, guarda, c'è! Cioè, guardate qua! Guardate! Poi, prima quando eravamo off camera, praticamente ci appariva lo schermo bianco con scritto errore. No, anche a me. Sì, però a te proprio ti spuntava una schedina, a me proprio la pagina tutta bianca. Eh, appunto! Ah, anche a te? Sì, c'è scritto un error. Guarda, un error! Voilà! Sì, dite, perché è sta pubblicità? Sta pubblicità, voi non la vedete? Cioè, raga, mi dice di riprovare, ma... Non so se è la registrazione che... Che mi... Che sta facendo fatica a caricare. Però, cioè, mi fa un po' più fatica. Cioè, ragazzi... Beh, io direi che il video può finire qua, cioè... Eh sì, il video può finire qua. Diteci nei commenti, diteci nei commenti come, cioè, cosa succede a voi, se succede la stessa cosa. Voi avete l'audio? Sì, vabbè. Qual è la vostra... Se a voi succede la stessa cosa? Qual è la vostra modalità? Allora, ragazzi, se voi... Eh, niente. Qual è la vostra modalità preferita in tutti e due i video, vi iscrivete e lasciate like. Io e Riccardo vi metteremo un cuoricino. Per supporto. Ok. Quindi, ragazzi, il video direi che è finito. Diteci se anche voi, da computer, da telefono, da tablet, da qualunque postazione... Da qualunque dispositivo, Matti, anche dal braccio, a caso? Beh, comunque... Diteci nei commenti se anche a voi vi succede sta roba. Sì, perché è anormale, veramente. Sì. Vabbè, niente, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video e ciao. Ciao. Ciao.